Nel corso della riunione convocata a Palazzo Santa Lucia dal presidente Vincenzo De Luca è stato dato mandato a tutti i dirigenti dell'Asl e delle aziende ospedaliere di programmare prioritariamente la vaccinazione con terza dose Boster, a tutto il personale scolastico e universitario che ha superato il sesto mese dalla seconda somministrazione. Si tratta di un piano straordinario di vaccinazione di massa che va portato a termine già entro il mese di novembre. Con la terza dose, ha dichiarato il presidente De Luca, è stata già completata la vaccinazione per tutto il personale dell'RSA. Contestualmente al personale scolastico si continuerà a completare la vaccinazione con terza dose a tutto il personale sanitario e ai pazienti fragili. Ma occorre entro novembre richiamare alla vaccinazione tutto il personale scolastico e universitario. L'obiettivo è garantire la piena tutela della popolazione scolastica dove insiste il maggior numero di non vaccinati dai 15 anni in giù. Un pericoloso canale di contaminazione non solo per studenti e docenti ma anche per le famiglie. È l'unico strumento per non dover chiudere le scuole nei prossimi mesi.